Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. In questa puntata di Spazio Salute parleremo di una malattia che non è molto conosciuta o di cui non sempre o non spesso si sente parlare, la neurofibromatosi e per parlarcene con noi in studio la dottoressa Carmela Demeco che è medico dell'unità operativa complessa di pediatria di casa sollievo della sofferenza. Benvenuta fra noi dottoressa e cerchiamo subito di far capire a quei pochi forse non pochi che non hanno mai sentito parlare di neurofibromatosi di cosa dovremo parlare, cioè a cosa fa riferimento questa parola lunga complessa e neanche facile da pronunciare. La neurofibromatosi è una malattia genetica e tra le malattie rare è una delle più comuni. È caratterizzata da una peculiare caratteristica che è quella di sviluppare una tendenza a patologie tumorali, essenzialmente benigne ma anche in una piccola percentuale anche maligne purtroppo. Colpisce qualche organo in particolare? Certamente. Gli organi più interessati sono la cute e il sistema nervoso, sia periferico, essenzialmente ma anche centrale. Può essere però in alcuni casi interessato anche l'osso e l'apparato cardiovascolare. E quindi che cosa consiste? Cioè abbiamo capito che può portare a delle neoplasie benigne nella maggior parte dei casi, qualche volta maligne, ma la neurofibromatosi vera e propria come si esplicita come malattia? Appunto, come dicevo, è un'alterazione genetica nel senso che viene mutato il gene NF1, che è un grosso gene che ha una caratteristica praticamente di essere un oncosoppressore. Questo gene codifica per una proteina che è la neurofibromina, anche questa proteina ha una caratteristica oncosoppressiva, sicché se viene alterato e mutato il gene viene mutata la proteina e di conseguenza si ha una crescita incontrollata della proliferazione cellulare, quindi questi pazienti hanno la tendenza a sviluppare patologie tumorali. Ecco, per far capire ai nostri telespettatori, noi abbiamo nel nostro patrimonio genetico alcuni geni, tra cui questo di cui ha parlato NF1? Sì, il gene dell'NP1 che è un gene che si trova sul cromosoma 17. Ecco, che ha la capacità di evitare l'insorgenza dei tumori. Nel momento in cui questo gene è alterato, chiaramente questa funzione viene meno e i tumori non vengono bloccati da questo meccanismo naturale. Ecco, quanto è diffusa questa patologia e ci sono soggetti a rischio in particolare? Allora, certamente. Dunque, l'incidenza di questa patologia viene colpito un soggetto su 2.500-3.000 persone, per cui generalmente in Italia ci sono praticamente più di 20.000 soggetti affetti e questa malattia può essere o ereditata da uno dei due genitori affetti oppure essere dovuta a una mutazione ex novo, quindi i cosiddetti casi sporadici. Generalmente dalle varie casistiche si evince che il 50% dei soggetti hanno ereditato la patologia e nel 50% dei casi invece è ex novo, insomma sono casi sporadici. E in questo 50% di mutazioni ex novo si è capito come mai viene alterato il gene? Non si è capito, ma come tutte le malattie genetiche sicuramente ci sono molte cause, è multifattoriale l'origine, però non sono state specificate, indicate alcune in particolare. Certamente, come dice il professor Dallapiccola, che è il padre della genetica, lui dice insomma sì, non ancora conosciamo tutto il nostro patrimonio genetico e di fronte a un genoma c'è anche un esposoma, cioè noi siamo esposti a vari fattori ambientali, da farmici in un ambiente che possono alterare quindi di conseguenza il nostro patrimonio genetico, quindi sono cause molto importanti. Ecco, quando insorge questa malattia in linea di massima? Per me è una pediatra, quindi immagino che essendo anche una malattia genetica si manifesta anche in età pediatrica. Esatto, intanto c'è da dire che non c'è differenza di sesso né di razza, entrambi i sessi sono colpiti con la stessa frequenza e le prime manifestazioni, la più tipica che ti fa porre il sospetto diagnostico, sono le macchie caffellate che insorgono già durante i primi mesi di vita, il primo anno di vita e quindi questo segno che poi è un segno più che un sintomo fa porre il sospetto diagnostico. Ovviamente di fronte insieme alle macchie caffellate ci sono altri sei criteri importanti che sono stati individuati per poter fare diagnosi clinica di questa patologia, sono le lentigine ascellari o inguinali, quindi lentigine delle pieghe, sono praticamente delle macchie caffellate in miniatura, poi ci sono i neurofibromi che possono essere cutani, sottocutani e plessiformi, poi ci sono a livello dell'occhio i noduli di lisce o il glioma ottico, a livello dell'osso le alterazioni osse consistono o in una pseudoartrosi della tibia o nella scoliosi. E poi un altro criterio importante per poter fare diagnosi è uno dei parenti di primo grado affetto. Per fare la diagnosi occorrono due almeno o più di questi criteri clinici. Ah, due criteri clinici. Ovviamente l'insorgenza di queste complicanze, di questi criteri diagnostici non è contemporanea e questo crea difficoltà perché queste complicanze si hanno in tappe successive della vita, per cui questo impone un follow up. Perché se un bambino si presenta con le macchie caffè e latte e non c'ha un familiare affetto, allora non puoi fare diagnosi, a meno che non fai, non viene in aiuto a questo punto l'esame genetico, che non ho nominato tra i sette criteri classici, no? Non è compreso, però è di un ausilio molto importante perché se un bambino ha le macchie caffè e latte in assenza di altri criteri perché non ancora sono comparsi vista l'età e noi vogliamo la diagnosi, soprattutto i genitori esiguono la diagnosi, facciamo l'esame genetico e se l'esame genetico è positivo abbiamo già i due criteri per fare la diagnosi, altrimenti se è negativo si aspetta, si mantiene il bambino ancora in follow up, almeno fino a sette o otto anni, per controllare la presenza di questi segni clinici o anche di complicanze su cui devi intervenire. Perché in questa patologia la caratteristica è proprio quella che le complicanze siano proprio in età pediatrica, per cui è proprio dall'età pediatrica che devi iniziare a fare un monitoraggio stretto in questi pazienti. L'età adulta, certo, magari hai più l'aspetto estetico di deformazione dell'aspetto fisico con l'insorgenza dei neurofibromi cutanei e sottocutanei o l'eventuale insorgenza di tumori, mentre nel bambino hai proprio le complicanze legate al deficit dell'acuità visiva, perché in un 15% dei casi puoi avere l'insorgenza del glioma ottico, oppure puoi avere un'alterazione scheletrica. La tibia varia, per dire, che è per fortuna rara nei pazienti, nell'1-2% dei casi, però si può manifestare nel primo anno di vita. O la scoliosi, che invece è una percentuale un po' più alta, del 10-20%, intorno già a 7 anni. Scoliosi, però, di una certa entità clinica su cui bisogna intervenire chirurgicamente. È una malattia un po' complessa, una malattia imprevedibile, clinicamente eterogenea. Una malattia, diciamo, che rispetto ad altre malattie grave, sicuramente forse un po' meno grave, ma poiché gli organi interessati sono molteplici, tra cui anche lo sviluppo cognitivo, nel 30-40% dei casi si può avere anche un disturbo dell'apprendimento, anche se non grave, in verità. È comunque una malattia che merita tutta la nostra attenzione, soprattutto da parte di noi pediatri, per sostenere in questo caso essenzialmente la famiglia, la famiglia che va in ansia perché sa il percorso, pensa già a tutte le conseguenze legate all'età adulta e il problema estetico diventa abbastanza rilevante. C'è uno dei sintomi che ha elencato che compare prima degli altri e che quindi può rappresentare il campanello d'allarme oppure indifferentemente può comparire per primo l'uno o l'altro di quelli descritti? Sicuramente le chiazze caffè latte è il primo sintomo e quello più frequente. E a che età compare questo primo sintomo? In linea di massima? In linea di massima già nel primo anno di vita. Ci sono bambini che già a tre mesi hanno la presenza delle macchie. Ecco, il neurofibroma plessiforme può anche esordire nei primi anni di vita, almeno nel 10% dei casi. Per dire se compare all'occhio che altera la funzione dell'occhio, lì deve intervenire chirurgicamente. Oppure un neurofibroma plessiforme degli arti che crea problemi nella deambulazione. Certo è che se non hai, come detto già prima, la presenza di un altro criterio rimangono solo le macchie caffellate e per fortuna nel 10-20% della popolazione generale ci sono soggetti normalissimi che hanno solo le macchie. Per cui le macchie da sole non hanno nessun significato. Solo l'associazione con uno dei sintomi clinici che ho elencato in precedenza, cioè il bioma ottico, i noduli di lisce, i neurofibromi plessiformi e cutanei, alterazioni scheletriche o l'esame genetico positivo, ci permettono di fare diagnosi. Solo le macchie non ci permettono di fare diagnosi. E siamo alla seconda parte di Spazio Salute in cui stiamo parlando di neurofibromatosi con la dottoressa Carmela Demeco, medico dell'unità operativa complessa di pediatria di casa sollievo della sofferenza. Abbiamo parlato ampiamente dei sintomi che caratterizzano questa malattia e abbiamo parlato anche dell'esame genetico che è quello che ci dà poi la certezza di questa patologia. Quindi è soltanto da questa raccolta di sintomi in anamnesi e nell'esame obiettivo e quindi dal successivo esame genetico che possiamo porre la diagnosi o ci sono altri strumenti diagnostici? No, no. La diagnosi essenzialmente, anzi c'è chi sostiene che la diagnosi si potrebbe fare anche solo con i segni e i sintomi clinici. Però l'esame genetico si fa per una serie di ragioni per capire poi il tipo di mutazione genetica perché il gene non viene mutato in tutti i soggetti affetti allo stesso modo. Infatti non c'è una correlazione stretta tra genotipo e fenotipo e la manifestazione clinica, quindi il fenotipo, è diverso da soggetto e soggetto affetto. Il che vuol dire che il gene negli stessi pazienti può essere alterato con diverse modalità. Ci può essere la microdelezione, la genesia completa del gene, tante varianti. tante varianti. Quindi sì, sicuramente l'esame genetico ci permette di fare i diagnosi, ma la clinica ha una rilevanza altresì, insomma, fondamentale. E quindi una volta che si è arrivati alla diagnosi, che si fa? C'è una terapia? Allora, intanto il follow-up perché il follow-up ti permette di prevenire complicanze su cui deve intervenire chirurgicamente. Ecco, per quanto riguarda la terapia, in effetti, la terapia è un po' deludente dal punto di vista medico, perché attualmente non ci sono farmaci numerosi ed efficaci per arrestare questa proliferazione cellulare incontrollata. Anche se nell'ultimo decennio si stanno sperimentando questi farmaci molecolari, cosiddetta terapia target, che agisce su queste proteine, perché venendo a mancare la neurofibromina, prevalgono delle proteine contrarie alla neurofibromina, le RAS proteine, che hanno una caratteristica proprio di fare in modo che questa crescita cellulare sia veloce. E allora questi farmaci andrebbero a bloccare questi enzimi che permettono la proliferazione cellulare. Sono in fase sperimentale, in molti paesi, soprattutto stranieri in America, e noi stiamo provando anche a San Giovanni Rotondo, nel nostro reparto, con alcuni pazienti, un farmaco molecolare, da poco tempo, su un paziente, incrociamo le dita, speriamo di ridurre queste, perché in certi casi questi neurofibromi possono essere inoperabili a seconda della sede dove si trovano. E quindi questo ci mette in crisi. Sicuramente l'exeresi chirurgica risolve in parte, però c'è la, la tendenza proliferare di queste neoplasie. E sicuramente noi come centro, la pediatria si può considerare un centro di riferimento per questa patologia, in quanto che siamo un centro all'interno della struttura di casa sollievo che ci permette di fare diagnosi, controllo, monitoraggio clinico e trattamento terapeutico. Abbiamo capito che quindi esistono due tipi di trattamenti terapeutici. Uno per cercare di arginare la malattia, per evitare che questa malattia si esprima con le sue manifestazioni e l'altro che va a curare i vari sintomi o le varie sue espressioni. Uno di questi trattamenti che va a curare una delle espressioni della malattia è la rimozione chirurgica dei neurofibromi cutanei. E come avviene questo trattamento chirurgico? Ce lo spiega in questo servizio il dottor Michel Antonio Fania, che è il primario dell'Unità Operativa Complessa di Dermatologia di casa sollievo della sofferenza. I soggetti con neurofibromatosi, soprattutto con elementi multipli, sono molto interessati alla chirurgia, perché molto spesso questi neurofibromi possono compromettere la funzionalità, soprattutto a livello auricolare, degli occhi, della bocca e molto spesso hanno quella dolorabilità per cui diventa necessaria la loro asportazione. Il dermatologo in genere interviene sui neurofibromi supercutanei e sottocutanei. I neurofibromi si possono trattare o col diatermocoagulatore o laser CO2, quelli al di sotto di 0,5 cm, e consiste nell'uso di uno strumento elettrico che cauterizza la base del neurofibroma distruggendolo praticamente. Ma per i neurofibromi al di sopra di 0,5 cm è più opportuno l'uso del trattamento chirurgico, che consiste nell'effettuare una incisione più o meno vasta, larga, della succutesana, della lesione, e successivamente all'asportazione la sutura, in genere con filo in vicrille intradermica e successivamente superficialmente con filo in seta superficiale. Dopo l'asportazione normalmente si consiglia la terapia antibiotica, si consigliano delle medicazioni in genere a 3-4 giorni, e una rimozione dei punti a in genere a 10-12 giorni. Dottoressa Demico, abbiamo parlato anche di questo tipo di terapia chirurgica, ora le voglio chiedere in che modo vengono seguiti i pazienti affetti da neurofibromatosi dall'infanzia fino all'età adulta, perché poi è una situazione che continua anche dopo. Certo, allora noi ci prendiamo cura e siamo attenti verso questi pazienti, in genere tramite l'attività nostra ambulatoriale, noi li controlliamo periodicamente, valutando i parametri di crescita, lo sviluppo psicologico, e tramite ricoveri pure, perché a volte i bambini hanno bisogno purtroppo di fare esami neuroradiologici, in narcosi, tipo la risonanza magnetica nucleare, sia per diagnosticare un sospetto glioma ottico che viene appunto sospettato in base agli esami strumentali oculistici, e poi ho l'insorgenza di altri gliomi centrali. Poi, questi bambini, insomma, c'è tutto un team multidisciplinare che si occupa di questi pazienti, cioè diciamo che il case manager in questo caso è proprio il pediatra, però che è coadiuvato da altri specialisti, l'ortopedico per quanto riguarda le alterazioni osse, appunto l'oculista, il neurochirurgo, molto spesso è intervenuto chirurgicamente su questi pazienti, poi l'oncologo, eventualmente, se c'è bisogno, il neuropsichiatra infantile, ecco, c'è tutto un team con cui si cerca di collaborare periodicamente. Se i bambini stanno bene, che non hanno complicanze da monitorizzare a tempi stretti, in genere li controlliamo una volta all'anno, altrimenti secondo segni e sintomi, e cerchiamo di accompagnarli fino a oltre l'età adolescenziale, infatti abbiamo problemi quando poi li dobbiamo passare all'internista, perché della sera non se ne vogliono andare, perché si trovano bene nel riparto di pediatria, è sempre un riparto un po' più allegro dei riparti seriosi della neurologia degli adulti, ecco. E insieme a queste figure professionali entrano in gioco anche le associazioni, proprio per aiutare questi pazienti a convivere, ad accettare questa malattia, a convivere con essa. E allora ascoltiamo come svolgono queste attività, questi volontari di fatto. Ascoltiamo il contributo di Corrado Melegari, che è il presidente dell'associazione Neurofibromatosi. Il nostro paziente per eccellenza è il bambino, un bambino affetto da neurofibromatosi, nasce con questa malattia. La prima, diciamo, dimostrazione sono le macchie caffelatte. Vuol dire che dal momento in cui c'è una diagnosi di neurofibromatosi, è una, diciamo, lotta continua per combattere una malattia che in questo momento assolutamente non ha una cura. E quindi l'associazione è nata assolutamente per essere di aiuto a questi nostri pazienti, che lottano appunto per avere delle cure immediate su quello che è l'evolversi di questa malattia. Quindi è un discorso di prevenzione che ogni giorno viene portato avanti. È una malattia che cambia completamente il loro modo di vita, che si mostra in mille modi e quindi c'è la necessità automaticamente di, diciamo, potersi inserire nel sociale. Mano a mano che il bambino diventa adulto, ci sono dei problemi ad acquisire una certa competenza nel lavoro e quindi possibilità di trovare lavoro. Allora, immaginiamo, c'è già difficoltà per i nostri giovani normali, per chi ha la neurofibromatosi, ancora peggio. Noi come associazione abbiamo lavorato da subito affinché il nostro paziente acquistasse consapevolezza, avesse la possibilità di vivere al meglio la propria malattia, non fosse ghettizzato perché è una malattia che deforma, nel senso che si creano questi neurofibromi anche sul viso, anche sul corpo, neurofibromi a volte devastanti, si ha la presenza di neurofibromi plessiformi che deturpano completamente la persona. Quindi bisogna convivere con questo tipo di manifestazione, bisogna accettarsi e farsi accettare. Ecco, ci lasciamo con questo messaggio di Corrado Omelegari, bisogna convivere con questo tipo di manifestazione, sapendo che la scienza intanto sta facendo dei progressi dal punto di vista terapeutico e dal punto di vista anche diagnostico per cercare di scoprire prima possibile la presenza di questa malattia e per cercare di arginarne gli effetti, per cui intanto bisogna combattere e convivere con la malattia. Grazie alla dottoressa De Meco per essere stata con noi e per averci spiegato che cos'è la neurofibromatosi. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi. Grazie a tutti.